Napoli-Milan termina 0-4, il Milan vince contro il Napoli giocando fuori casa, quindi non nel nord Italia ma proprio nello stadio ubicato in questa bellissima città, capoluogo della regione Campania. 0-4 per il Napoli, ben 4-4, un poker di gol per il Milan, a segnare 4 gol, 2 sono stati fatti da Rafael Leao, uno nel primo tempo, un altro nel secondo, e poi a firma di Brian Diaz sempre nel primo tempo. Ed infine l'ultimo, ma non per questo di minore importanza, nel secondo tempo a firma di Alexis Zarenmakers, una partita che si gioca tutta in preferenza da parte del Milan nei confronti del Napoli, che restando quasi in un angolo chiuso nei suoi paradigmi, o meglio chiuso nelle sue difficoltà, non riesce a sbloccare il risultato e quindi rimane senza fare neanche un gol. Il piglio giusto lo trova il Milan, che devo dire che in questa serie A e in questa classifica non è che sta facendo benissimo, però se la sta abbastanza cavando, secondo la mia opinione, secondo il mio punto di vista. Bene, 0-4 dunque, complimenti al Milan, il video termina qua, iscrivetevi al canale narratore italiano, commentateci a tutti.